Forza Parma! Forza Parma! Questo è il grido di battaglia! Oh la bella! Anno lei! Melendeta! Sceva che la Juve è venuta insalata! Però gli abbiamo ammissato tutta! Dai, conta che Melendeta! Su, su, conta! Oh, sti bella Pramzani! Sono a Nolem da Parma! Sono stai a Legno in cor! Finalmente comincia il campionetto 2019-2020 con Parma Juve! Quando arriva davanti a Legno la Correra di Gove, e questo è un po' fischi che ciò che mette in mano! Appareva ad essere al Regno quando i cantanti chiamavano i stacchi tutti fischi! Dunque, abbiamo cominciato con i Gove all'attacco! Con la novità, con un po' di malinconia che in panchina per i Gove mi portava di riserva e era buffo! Sarri, l'allenatore di Gove, e lei con le polmonite! Le stai sostituì dal vice Giovanni Martisiello! Dopo so quante tentative di attacco di Gove e un per e contropè di Crozet, dopo vinti minuti che l'Ini la devia un ballo e la infissi seppi! Le! Voi e zero per la Juve! Dopo seppi, la ferma Ronette, che era lanciata in porta! e la ferma Ronette, la ferma Ronette, che aveva un cognome che non piace tanto! Comunque va bene lì stesso! L'arbitro, il signor Maresca di Napoli, la ferma il gioco per un minuto per via del caldo e del stufo gas che era in cor a legno! e che i giocatori hanno potuto bevare un po' d'acqua! L'azione dopo, gol di Ronaldo! Che l'arbitro Maresca l'andò a nulla per fare il gioco dopo aver controllato il VAR! Con l'amunizione a Hernani del Perma e finì al primo tempo! E il secondo tempo cominciò con il Crozet agressivo bombe a Moni pregò che dire! In breve, Bruno Alves, Siligerdi e Jacopo che continuarono a attaccare! Invece Gervinio l'estè al più deludente e pareva un po' di molle! Non per avere Ronette l'ha fatto la verba attraverso il sepe bisogna che dica che con Ronette lì ragazzi le bombombea e la Juve l'ha chiamato il ballo fino in fondo! A cinque minuti aveva toccato il Caramo al posto di Barillà che giocava ben bombe a Barillà L'arbitro l'ha detto sei minuti di recupero e al tardino l'estè tutto un incitore di Crozet! Quindi abbiamo fatto la partita del campionato con il permesso sotto di un gol con i Gopi ma con i Crozet che hanno dimostrato che sia l'altezza della Serie A e che non ci sono e che hanno fatto che con i Gopi la Serie Sesteda doveva bombare! Quindi Karim e Pranzan se vediamo Domenica Queen a Udine contro l'Udinese e forse Crozet e abbiamo sui sti beh